Benvenuti a questo Pone News, tutto un altro film. Ma quale film? Questo è un notiziario. Sì, film in senso lato. Quale lato? Vabbè, non gli affa. Linea Giorgia Palmas. Grazie. Dash liquidi igienizzanti nel formato da 3 flaconi per 15 lavaggi è a 6,99€. Le Dash Pots All-in-One igienizzanti nella confezione da 55 capsule sono a 9,90€. E per un bucato profumato a lungo prova gli ammorbidenti Lenore. Il formato da 37 lavaggi è a solo 1,99€. Franci, qual è la soluzione per avere barba e pelle perfette? Nivea Men. La schiuma da barba Nivea Men Sensitive da 200ml è a 1,99€. Per un sollievo immediato dalla rasatura c'è il dopo barba Sensitive da 100ml a 4,99€. E solo d'acqua e sapone con due prodotti Nivea Men, di cui uno per la rasatura o cura del viso, in omaggio un telo da palestra. Franci, sei distratto? Ma forse hai trovato qualcuno che è più bella, simpatica, dolce e che sa cucinare meglio di me? No, ho trovato il volantino acqua e sapone. Come fai a resistere a tutte queste offerte? Sì, le offerte. Acqua e sapone, oltre la convenienza. Grazie. Grazie. Grazie.